Benvenuti a questa prima amichevole in attesa di E-Champions, il mio Lipsia affronta un amichevole di lusso contro il Bayer Leverkusen. Ho deciso di schierare una formazione con un 4-3-1-2 asimmetrico per dare spazio a Sabitzer di solcare la fascia destra. Lascerò un po' libero Alstenberg sulla fascia sinistra sperando che non abbia troppi problemi. Dani Olmo a supporto delle due punte che saranno Schick e Werner. A te Leverkusen! Il mio Bayer Leverkusen gioca con un 4-2-3-1 con Bailey, Amiri e Avers come esterno-destro dietro Kevin Volland sperando che possa segnare. Vedremo, vedremo. Linea al campo e si parte. Forza ragazzi! È proprio Sabitzer che batte questa... Oh no, no, no! Subito, subito! È subito una zero! Ma cos'è? Prima azione, 38 secondi ragazzi. Bravissimo, è uscito molto bene. Rivediamolo come è uscito bene il nostro amico Radeci. Allora, rivediamo. Attenzione. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. No, Radecki! La marcia di Radecki. Vabbè, dai, ancora lunga la partita. Mancano ancora 90 minuti. Vabbè, dai. Crediamoci, crediamoci. Grande pressing offensivo. Avers perde pari. Grande Dani. Dani Olmo. Poi difficoltà sulla fascia destra. Non è il suo ruolo naturale, però comunque qualche volta l'ha fatto. Attenzione, Voland! Esci, 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 Gulaci, sì, Gulaci. Grande portierone, Pitero. Davanti al portiere, poteva di certo segnare. Stiamo parlando di Piterone, Piterone e Gulaci. Intanto Astenberg è ancora svetta. Molto male. Non c'è nessuno che lo possa prendere sui colpi di testa. Tutti dietro, Dani Olmo. Olmo è andato a prendersi il pallone, vuole giocare oggi. Super, Amiri! No, però male tecnicamente. Guardate come giochiamo di prima. Merde i nostri palloni, attenzione. Schick, no, no, che numero c'è. E poi va. Amitro, è passaggio al portiere. Ma quello è passaggio al portiere. Ma come può essere passaggio al portiere? Ma sì. Se non lo vede manco il portiere. Allora è rigore, allora è rigore. Ma non lo vede manco il portiere. Dai, vai ancora, ancora ragazzi. Il advisor è veramente l'unico che ci crede. Pressing. Amiri perde un altro pallone. Riconquistiamo la palla, bellissimo. E la perde ancora. Vai Dani. Sì, 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 ti muo. Ma è fuori gioco, ma è fuori gioco netto. Non ci credo. Rivediamola, rivediamo, rivediamo. Come faccio ad andare a sto gol? Attenzione. Guardi tre palloni persi. Rivediamola un attimo. Cambiamo anche punto di vista. Tre palloni persi di fila, però. Cambiamo punto di vista e mettiamo come visuale bordo campo e abbassiamo anche la velocità per capire meglio come potrebbe essere andata questa azione. Lasciamola andare. Vediamo Dani. È un po' troppo lento questa. Voi dite un po' troppo lento, ma godiamocela questo Dani Olmo che stoppa il pallone. Chi è quello che cerca di limitarlo in quel frangente di gioco? Non capisco, penso a Ranguizzi. Sì, sì, dovrebbe essere lui. Attenzione. Dani Olmo è pronto per il passaggio. Se la tocca ancora un attimo. Eccolo. Vediamo. Vediamo che sta per calciare il pallone. E no, in questo momento non era fuori gioco. Non era assolutamente fuori gioco. No, 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 no. Io rivedrei ancora una volta. Torniamo indietro. E in questo momento vedete che non è fuori gioco. Guardate le ombre. Però la testa, la testa è avanti. Sono in linea. No, no, no. La testa è avanti. Il Vara ha dichiarato che è tutto buono. Il Vara ha dichiarato che è tutto buono. E quindi si può procedere tranquillamente. Fuori gioco. 2-0 per i ragazzi. Molto bene l'Ipsia in questa frangente di gioco. Ripartiamo con la TV. Forse siamo un po' troppo veloci. Scendiamo un attimo. Dai, Weiser. Taglia di tutto il campo. 2-23. Lo segue. Bravo, Closten. La palla in mezzo. Poi Vendel. Dai, ragazzi. Dai, Sabitzer. Un po' più deciso. Dai, Bailey. Bella ancora Weiser. Che ci crede ancora. Weiser. Attenzione. Il tiro. Sì, Gulaci. Piterone. Piterone. La porta rimane inviolata. 2-0 per noi. Dai, dai, dai. Sempre l'assolitazione. Siamo di ripartire sempre con questa tappa. Vendel. Taglia il campo. Stavolta non esce però. Ancora. Weiser. Arriva solo ora. Esci, esci. Sì. Grande Kevin. E c'è 2-1. Non è che ci crediamo. Non è che ancora credo. Ma cosa hai fatto Piterone? Non è proprio uscito. Eh, Piterone. Il tuo Piterone. Non benissimo. Dai subito. Ancora noi. Dai, Amiri. Vabbè. Bella, dai, Avers. 45esimo. Due minuti di recupero. Ancora Weiser. Però chiudilo. Esci. Esci. Molto bene. Bayley. Prova sinistro. E c'è il gol di 2-2. Sì, così. Al 46esimo. Siamo stati raggiunti malissimamente nel recupero. Bene così. L'abbiamo recuperato prima della fine del primo turno. Allora, ci hai fatto dei cambi. Sì, io non ho fatto nessun cambio. Infatti è uscito Amiri. È entrato Bella Ravi. Quindi Avers torna nella sua posizione naturale. Vediamo cosa succede. Bella Ravi. Arangu. Siamo andati male, spogliatoi. Dai ragazzi, bravo Orban. Bravo Orban. Ancora ta. Adesso sta prendendo fiducia. Sentiamo la botta. Sentiamo la botta. Bella Ravi. Sì, se l'allunga. Ma ragazzi, non è rigore. Ma questo è rigore. Ma no, ma no. Torniamo indietro. Rivediamola. Ma veditela quante volte vuoi. Perché questo è rigore più netto della storia. Allora, rivediamola da qua. Secondo me non è calcio di rigore. Abbassiamo anche la velocità. Come fa a non essere rigore questi. Dai, ma si vede anche la palla che va avanti. Non prende mai la palla. Alstenberg. No, non prende mai la palla. Sì, sì, sì. Ragazzi, avete ragione voi. Calma piena. Devo ammettere quando è così. No, adesso questo rigore che andrà a battere Aranguiz. Vediamo chi è. Vediamo, vediamo. Certo Aranguiz. Vai Piterone. Facci il miracolo, devi riscattarti Piterone. È un bel rigorista comunque Aranguiz. Vediamo. La lentezza. È il tiro. Bellissimo. Non c'è niente da fare. In dieci minuti. La recupera però l'Everkussi. Altro che recupera. Passa anche in vantaggio. Super repuntale. Gran gol di Ciarciano. Da 2-0 a 3-2. Freddissimo il numero 20 dell'Everkussi. Non è finita. Adesso cerchiamo di difenderci. Siamo al cinquantesimo. Sto pensando cambio. Vorrei fare entrare Angelino al posto di Kampel. Grande. Oh, Piterone sì. Stavolta. Vulaci. Si riesce a prenderla. Adesso penso che metterò Angelino per Kampel. Quindi lo sposto sulla fascia sinistra anche per limitare. un po' le... Chi era? Weiser o Vendel? Quello che è Weiser? Era Weiser. Tiro! Traversa! Mamma mia! C'era anche il fuori gioco. Questo arbitro mi sembra un po' dalla tua, però... Dai, non si è tutta un po' dalla tua in fuori gioco. Dai, dai bella Rabi. Tanto noi abbiamo fatto un cambio perché è entrato Diaby al posto di Bailey. Chiudi, chiudi! Bella bella Rabi! Questa, se il Piterone me la manchi anche questa, dai con Angelino. Faccio scaldare Paulsen. Diaby, eccolo. Ha fatto una bella azione e poi è sparito. Vendel, c'è ancora sempre Diaby, però Palasius, bella la palla per Diaby. Può metterla in mezzo e infatti può così! Chiudi, chiudi, chiudi! Avers, ma tirate! Ma tirate! Gigioneggiano, gigioneggiano, ridicolo. Avers potrà tirare facilmente. Dai, partiamo in contropiede. Timone. Occhio, occhio! Dai, Patrick. L'ultimo azione, se no ti tolgo, ti tolgo! E ti tolgo, sì. Ma è impossibile gol subito. No, è impossibile gol subito. No, è impossibile gol subito. Fuori, dentro Paulsen. Il Toro Paulsen, quello che ci ha portati in Serie A, in Bundesliga. Vai, Sabitzer. Timer. Facciamo fatica. Siamo molto stanchi adesso. Ragazzi, meritiamo, meritiamo. Serve un quinto difensore. Ultimo cambio, ho messo Fosberg. Vai, tira, tira, tira. E gol, è entrata, è entrata, è entrata Angelino. E l'avevo detto. Ormai ho già messo Dragovic al posto di Aversi, quindi non c'è più tempo. Finisce così, finisce così, 3-3. 3-3. Bella partita. Complimenti al Bayern Leverkusen. È stato un gran bell'allenamento. Abbiamo avuto questo brutto periodo dalla fase finale del primo tempo all'inizio del secondo, ma poi ci siamo riscattati. 3-3. Il Lipsa è in partita e nella Champions e in E-Champions. Quindi vi aspettiamo la prossima amichevole. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao a tutti.